Ciao, sono Monica, lui è Billy. Il primissimo contatto con AriaDog lo avevamo avuto tramite una ricerca internet. In quel momento io stavo facendo la dieta Barof e avevamo diversi problemi con entrambi i nostri cani. Non riuscivamo a comprendere cosa stesse succedendo fino a quando abbiamo scoperto che il problema era l'alimentazione. Quindi ho ripreso la proposta di provare questa alimentazione che sembrava riuscire a coniugare un po' tutto quello che era. Da una parte il mio desiderio di un'alimentazione che fosse viva e dall'altra però la praticità naturalmente e soprattutto l'equilibrio delle componenti. I cani erano felicissimi e proprio si leccavano i baffi come si suol dire. Soprattutto la cani a India iniziava ad essere un po' più tranquilla e un po' più vitale. Io consiglio AriaDog assolutamente, la consiglio spesso, mi capita molto spesso di raccontare alle persone la mia esperienza e di aiutarle a capire che un'alimentazione naturale è la migliore.